Io penso che porre un limite al mandato sia una limitazione della democrazia. Noi parlamentari non abbiamo limite ai mandati, noi ministri non abbiamo limite ai mandati. Perché un sindaco, un governatore devono avere un limite al loro mandato. Alla fine sono sempre i cittadini a decidere. Ho sentito ieri che i giovani padani hanno approvato una mozione che chiederanno di portare al congresso perché ci sia un limite come c'è per i sindaci per ogni carica elettiva di due mandati anche dentro la Lega. E secondo me sarà cosa buona e giusta perché dopo dieci anni penso che si possa lasciare spazio a qualcun altro che potrà prendere il nostro posto a Bruxelles, a Roma o in Regione.